Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi, perché dopo mi dite ma perché saluti solo le ragazze e non saluti i ragazzi o viceversa? Allora vi saluto tutte e due così almeno siete contenti Scusate per l'assenza, di nuovo, perché appunto ragazzi, sono all'ultimo anno, la maturità mi sta praticamente ammazzando e io non ce la posso fare Non ce la farò quest'anno, no scherzo, ce la devo fare In ogni modo appunto ho avuto parecchie simulazioni d'esame, poi è arrivata Claudia, poi ho avuto tante cose da fare anche per oggi Che oggi è un giorno particolare e quindi davvero non ho avuto il tempo di fare un video Ma mi farò perdonare perché adesso ci saranno appunto quattro giorni che farò dei video, vlog oppure comunque vi farò vedere un po' quello che accadrà Perché farò un piccolo viaggetto che già adesso appunto mi devono venire a prendere, infatti sono in anticipo Ma preferisco essere in anticipo che in ritardo, no? E preferisco appunto essere in anticipo che in ritardo in modo tale che posso anche prendere le ultime cose Ho già tipo aperto la valigia quattro o cinque volte perché ho detto no forse pesa un po' troppo Allora apri, togli qualcosa, chiudila, valla di pesare Cioè ragazzi ho fatto le cose assurde oggi veramente In ogni modo appunto sto per partire La meta la scoprirete tra poco E niente, spero che appunto questi video vi piaceranno Se non vi piacciono ditemelo Ma a me piacciono molto e spero che la cosa sia ricambiata in ogni modo E niente, vi lascio al video Ciao Ciao Let's light up the world with the fire we make I could climb the highest mountain Or I could fall from the greatest high Nothing will change, you're love's the same, always the same Cause we're fire, fire, fire We're turning up the heat in here We're on fire, fire, fire Illuminate the atmosphere Cause we're fire, fire, fire We're turning up the heat in here We're on fire, fire, fire Illuminate the atmosphere Allora ragazzi, io sono arrivata alla destinazione La stanza è ancora vuota, ci sta solo uno e l'alto perchè gli altri ritano domani E niente, io sono mai pesa sotto Quindi va lo correndo torbile Que è una altra magra comiquissima E niente, c'è una bella Buongiorno ragazzi, buongiorno Siamo finalmente arrivati in Sicilia Siamo arrivati ieri sera E adesso siamo appunto in questa specie di campeggio Dove appunto ci hanno dato le stanze per dormire E io mi sono vestita, preparata Perchè tra poco usciamo in Sicilia E andiamo a Palermo Perchè poi dopo alle 6 di pomeriggio abbiamo una conferenza Inizierà questa conferenza, bellissima E quindi niente, adesso appunto aspetto anche gli altri ragazzi Vediamo cosa si fa E poi niente, vi porto un po' con me Ciao Allora ragazzi, quello che vi ho fatto appena vedere È appunto l'atrio di questo edificio Ragazzi è bellissimo C'è qui sopra Ci sono tutte le detrate, danno tantissima luce Oggi piove, purtroppo è una giornata bruttissima Ma ragazzi è più bellissimo Me lo sto immaginando in estate C'è qui sopra un po' con me Fantastico Grazie a tutti. 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 a tutti.